buongiorno bentrovate vi avevo anticipato che stavo preparando tante belle sorprese per voi una delle sorprese che stavo preparando in questi giorni e che purtroppo non potevo anticiparvi è appunto questo il nuovo progetto in collaborazione con perline bijoux vi ho mostrato qualche giorno fa una review di alcuni materiali che avevo acquistato di alcuni materiali che mi sono stati regalati e ho preparato ispirata comunque dai nuovi materiali dai nuovi colori eccetera ho preparato qualcosa di veramente carino per voi più di qualcosa in realtà oggi vi presento il primo progetto in collaborazione tra questi appunto che ho realizzato il primo progetto di questo periodo ovviamente perché collaboro con perline bijoux da tantissimo tempo quindi già avete visto più progetti in collaborazione vi lascio a proposito in infobox un link con una playlist dove troverete tutti i vari progetti in collaborazione ce ne sono alcuni che avete amato tantissimo e mi fa sempre piacere riproporveli e per i progetti appunto in collaborazione trovate dei kit di materiale che prepariamo e scegliamo selezioniamo per voi e quindi non dovete far altro che seguire i tutorial o gli schemi come in questo caso sì perché è un progetto leggermente articolato quindi ho preferito creare per voi uno schema pdf e lo schema vi sarà appunto regalato all'acquisto del kit quindi seguendo i link che vi mettiamo a disposizione e appunto in infobox troverete anche il link per acquistare il kit e al momento appunto dell'acquisto poi vi verrà inviato via mail direttamente dallo staff di perline bijoux il file pdf per realizzare l'intero progetto adesso ho fatto tutte queste chiacchiere è ora di mostrarvelo allora in questo caso questo progetto che vi mostro oggi sono degli orecchini degli orecchini che però possono essere anche utilizzati ovviamente come pendente eccoli qui io li adoro come sempre un progetto nella sua semplicità comunque articolato che ha qualche piccola particolarità come ad esempio la piccola decorazione sul perno i perni ve li avevo mostrati mi sembra quando li ho acquistati adesso non ricordo bene se ve li avevo mostrati senza la decorazione ma appunto ho preferito arricchirli appunto con questa decorazione che potesse riprendere i materiali e la lavorazione vedete io adoro questi questi colori avevo bisogno di colore ve l'ho detto avevo bisogno di tirarmi un po' su in questo periodo e effettivamente penso di esserci riuscita a me piace tantissimo il nome degli orecchini è anemone perché mi ricorda comunque il fiore quindi vedete molto carino anche sul retro non è difficile da realizzare però ci sono alcune accortezze alcuni passaggi che vanno realizzati in maniera precisa e quindi ho preferito realizzare per voi lo schema pdf quindi con tutte le foto di tutti gli step nello stesso file ho inserito sia il pdf per l'incassonatura che seppure sembri un'incassonatura semplice netted ha comunque delle piccole accortezze che dovete rispettare per ottenere questo tipo di risultato quindi come sempre io ringrazio per linee bijou per l'opportunità per i materiali fantastici che mi mette a disposizione e potete quindi realizzare in maniera molto semplice e veloce questo tipo di orecchini seguendo il pdf e acquistando ovviamente il kit che ho già preparato per voi ci vediamo quindi prestissimo qui sul canale con alcuni tutorial molto simpatici con un altro progetto sempre in collaborazione con perline bijou che è già pronto però appunto ve ne mostro uno per volta perché non è il caso di mettere troppe cose insieme quindi una cosa per volta quindi c'è già quest'altro progetto molto molto carino tutto per voi e poi tante tante altre novità tante cose carine e simpatiche da poter realizzare in questo periodo un abbraccio buona giornata creativa a tutti io il video ovviamente lo sto realizzando in mattinata ma quando verrà messo online praticamente starete già ricevendo le newsletter che vi presenteranno questo bel progetto vi ricordo se non l'avete ancora fatto di cliccare sul link per andare sul sito di perline bijou lo trovate in infobox e poi iscrivervi alla newsletter per essere sempre aggiornati sui nuovi materiali arrivati le promozioni che ci sono a disposizione per voi e appunto i kit creativi che prepareremo di nuovo un abbraccio buona giornata creativa a tutti ciao ciao